Torna con un secondo impegno letterario Marina Marucci che ci propone un Segreti incertosa, un libro molto interessante perché cerca di far luce su una serie di misteri regati proprio ad una certosa. Secondo libro, bene allora ne parliamo direttamente con l'autrice, come mai questa veramente scelta importante è incertosa? Dove? Quale certosa intanto? Allora la cornice del mio libro ha la certosa di Trisulti che si erge maestosa nelle colline vicino a Collepardo, un piccolo paese, nel Frusinate. Il libro si divide in due parti, la prima parte riprende fatti e avvenimenti accaduti tra la prima, la seconda guerra mondiale e il 1900 fino al 1955, fatti chiaramente da romanzati ma realmente accaduti. Nella seconda parte, fatta nel 2018, si parla di una situazione appunto di grande conflittualità tra la destinazione e la gestione della certosa di Trisulti e invece quello che le istituzioni volevano far diventare la certosa. Nel mio libro viene ripresa nella parte finale questo contrasto ma soprattutto poi viene ripreso anche una parte del libro che riguarda la ricerca di un volume molto importante di ricette erboristiche che proprio la riuscita, il riuscito recupero di questo libro porta al chiarimento di alcune vicende importanti e di segreti come dice il libro che vengono così riportati nella prima parte del romanzo. Ed è un impegno sociale per far rimanere l'attenzione intorno alla destinazione di questa certosa che con 800 anni di storia rischia di vedere compromesso il suo patrimonio storico e religioso. Io col mio impegno e anche non solo quello mio ma anche degli altri, anche degli abitanti di Collepardo che mi hanno sollecitato nello scrivere il libro, vorremmo porre all'attenzione questa situazione perché il patrimonio storico religioso dei frati certosini e dei frati circestensi che fino a poco tempo fa erano e vivevano all'interno della certosa non deve essere affatto perduto.